Nasce la Prologo Pitecuse con Presidente Luana Pezzuto. Qual è l'obiettivo di questa nuova forma associativa che opera nel Comune di Forio? Opera nel Comune di Forio, grazie innanzitutto per questa occasione anche perché siamo a qualche giorno dall'inaugurazione e dalla presentazione di questo gruppo. Un gruppo di giovani professionisti, lavoriamo in diversi campi e ci siamo uniti ovviamente per dare tutta una serie di risposte. I nostri obiettivi sono diversi, partiamo diciamo da un laboratorio per progetti e per bandi, lavoreremo diciamo anche un po' in associazione con tantissime realtà che già esistono sul territorio e cercheremo ovviamente anche di unire con una sorta di consorzio, associazione a questa Prologo tutta una serie di iniziative. Quindi un'opportunità non solo professionale ma anche e soprattutto per i giovani? Soprattutto per i giovani perché il nostro gruppo è formato da tutti i ragazzi under 35 quindi siamo tutti quanti carichi e motivati. Quindi si va avanti con un trend positivo per l'Isola di Ischia? Vi aspettiamo a questo punto il 27 perché ci sarà la presentazione appunto del nostro gruppo e non sarà un evento semplicemente ludico per presentarci, ci sarà un evento anche per riflettere sul brand dell'Isola di Ischia e quindi per iniziare subito i lavori. Quindi il 27 settembre giovedì mattina alle 10.30 al ristorante Oasis. Vi aspettiamo.